Il 10 gennaio del 2013 saranno trascorsi tre anni da quando Silvio Berlusconi dichiarò lo stato di emergenza carceraria. A oggi nessun nuovo posto letto ha visto la luce, un fallimento che dovrebbe indurre l'amministrazione penitenziaria a sospendere le gare, rinunciando a un progetto che tiene bloccati circa 450 milioni già stanziati e investendone piuttosto una parte nella ristrutturazione di istituti già esistenti e oggi fatiscenti. Anche perché oggi di personale da destinare alle nuove carceri ce n'è pochissimo. Il 13 gennaio 2010 l'allora capo dell'amministrazione penitenziaria Franco Ionta aggiunse alla propria carica quella di commissario straordinario all'edilizia penitenziaria. La scelta delle ditte appaltatrici sarebbe potuta avvenire saltando le consuete procedure di assegnazione, secondo gli stessi parametri di urgenza utilizzati dalla protezione civile in caso di calamità naturali. Il sovraffollamento penitenziario, frutto di politiche fin troppo umane, veniva equiparato a un terremoto come quello del 2009 e Berlusconi, riferendosi ai propri programmi per le carceri, parlò di un modello abruzzo. Pochi mesi furono sufficienti per mettere in piedi il piano carceri, in una forma che oggi è già un lontano ricordo. Il piano disponeva di 675 milioni di euro per realizzare 9.150 posti letto, ripartiti tra 11 nuovi istituti penitenziari e 20 padiglioni da costruire in carceri già esistenti. Pochi giorni prima del Natale 2011 il nuovo governo Monti sostituisce Ionta con il prefetto Angelo Sinesio nel ruolo di commissario straordinario. La crisi economica morde e il piano carceri si assottiglia. Nel maggio del 2012 ne viene presentata una versione meno ambiziosa e gli 11 nuovi istituti diventano 4, Torino, Pordenone, Catania e Camerino. Il numero dei padiglioni si riduce a 17, si contano 228 milioni di euro in meno rispetto a quelli previsti in origine. A fronte di questo ridimensionamento aumentano stranamente i posti letto, che diventano 11.573. La maggior parte di questi posti rientra però in tutte quelle carceri in costruzione da oltre un decennio, che con il piano non hanno niente a che vedere. Il tempo trascorre e il piano carceri continua a dimagrire, quantomeno nella sostanza. Procedono le gare di appalto relative ai padiglioni, ma sono ferme quelle riguardanti i nuovi istituti. Anche per i primi, tuttavia, non è stato posato, a oggi, neanche un mattone. Nel settembre 2012 il piano è finito sotto la lente della Corte dei Conti. Soldi per le nuove carceri non ce ne sono, e quelli disponibili non bastano neanche per ultimare le costruzioni già avviate in anni passati, come quelle degli istituti di Reggio Calabria, Cagliari e Sassari, il cui quantiere è aperto da moltissimi anni. I giudici contabili si occupano anche delle ex case mandamentali oggi chiuse, piccole carceri fantasma con poche decine di posti. In 56 di queste sono stati avviati e spesso conclusi lavori edilizi inutili prima della chiusura definitiva.